L'abbiamo fatto di nuovo arrabbiare. In fondo Mario è un ragazzo sensibile. Chissà se torna. Certo che torna. Ci farà aspettare. Ma tornerà. 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 Che signore? Barteli. Vattene. Vattene. Sei un stomcio questo sei. Un bastardo. Certo che ti scusi. Se mi incontri di nuovo fa finta di non vedere. Capisco che sei venuto qui solo per fare. E allora? Mi lasci parlare. No! Non hai voluto fare i bagni della stazione perché detto ti faceva schifo. Vai venire fin qui e poi... Mi lasci spiegare. Spiegare cosa? Guarda che non ho alcuna intenzione di finire così la mia strada. Non è vero che i cessi fanno schifo. Ah no? Sei strano, sai. Io ho una strada che è durata molto tempo, fino al giorno... in cui è scoperto che anche lui batteva i cessi della stazione e fine della storia. E allora? Che devo fare? Indossa. Perché? È la mia condizione. Ah beh, per me non è un problema. È importante raggiungere lo scopo di fare. Ma stasera mi vado a fare giugno. Caricci, mi ha fatto un po'. Saluta Vittorino un secondo. Ehi, Massimo. Perché non viene giugno a me? Facciamo te pazzi insieme. No. Allora arrangiati da subito. Un solbone. Un padre. Una lì e Halloween. Una lì e— No. ... Syra! Grazie a tutti